Ciao a tutti, e rieccoci di nuovo qua. Allora, volta precedente abbiamo trovato i cerbiatti, ma non sono riuscito ad ucciderli. Il mio piano è di andare a prenderne qualcuno. Il problema è l'arco, che non è per niente potente. Andiamo. Allora, va bene. Grazie. Muoviamoci e poi partiamo. Il problema principale è come uccidere quei cerbiatti che gli ho dato anche una fiammata ma non è servito niente. Grazie. Poverò con la pistola. Grazie. Grazie. Boh, ho visto qualcosa. Poi c'è un aereo. Grazie. 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 Mmm... Non mi ricordo dov'era. Qui c'è il villaggio, quindi no. Grazie. 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 Tutto per un po' di cerbiatti. Grazie. 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 Riesco ad arrivarci e a prenderne uno. inovarci non ce ce l'ho quanta strada per un cerbiato che cosa c'è? tende quindi è quello di là però dovrei trovare i pezzi il chip eccolo qua uno uno due quindi è quello là ma l'altro oh bruccione e dai ok ok chiuso sto coso la pentola ok 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 questo è la grotta quindi non è ok 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 spero che mettono una mappa perché qua mi sto perdendo questo è la barca eccolo qua preso preso il per OP questo è che non mi ha dato che non mi ha dato ok questo è un'altra mappa non mi ha dato ma quanti ne posso prendere? andiamo a prendere le lucertole ma ce l'ho già un altro chip servirebbero le lucertole un certo lino? un certo lino? un certo lino? ovviamente qua guarda quante robe un po' cosa fa? un certo lino? 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 non ho capito cosa hanno fatto la pelle no c'è nessuna braccia salva ed esco